vi racconterò adesso la storia di un uomo che si chiamava platone che era stato allievo di un altro signore che si chiamava socrate cioè colui che ha inventato la filosofia e che porta ad atene nella grecia antica qualche cosa che non si era mai visto qualche cosa che ripensa il modo in cui il suo stesso maestro socrate aveva immaginato la filosofia platone viveva ad atene poi durante la sua vita ha fatto dei viaggi l'epoca in cui è nato all'incirca il 427 avanti cristo quindi prima della nascita di gesù cristo e platone ha un'idea un certo punto pensa che quello che gli ha insegnato il suo maestro socrate vada in qualche modo cambiato vada ripensato perché la filosofia in fondo gli ha insegnato questo creare nuovi pensieri lui decide di far nascere la sua filosofia non nella piazza non nel mercato come faceva il suo maestro socrate ma in un posto molto speciale dove lui si allenava faceva ginnastica quando era ragazzino cioè in una palestra con platone la filosofia viene portata in una palestra dove era questa palestra era poco fuori ad atene all'incirca un chilometro un chilometro e mezzo molti giovani ci arrivavano di corsa per vel che venivano ad allenarsi in questa palestra di platone platone era quindi un filosofo allenatore che in questa palestra che cosa fa fare ebbene fa il gioco della domanda e della risposta del dialogo come faceva il suo maestro socrate ma ci aggiunge delle cose platone era convinto che noi pensiamo bene se il nostro corpo è allenato se il nostro corpo sta bene se il nostro corpo è in salute e allora metteva insieme due cose l'allenamento fisico e l'allenamento mentale che platone ci insegna proprio questo quando noi dialoghiamo insieme quando noi cerchiamo di far nascere dei pensieri quando noi facciamo delle domande delle risposte in fondo non stiamo facendo nient'altro che allenare la nostra mente perché se la nostra mente non è allenata è una mente che si affatica presto è una mente che tende ad addormentarsi è una mente che tende a non pensare bene un po come quando non siamo allenati che siamo un po sempre stanchi e vogliamo magari starcene lì sul divano se iniziamo a uscire a giocare a muoverci ecco il nostro corpo si sente meglio lo sentiamo meglio ci sentiamo meglio così la nostra mente per platone se l'alleniamo se dialoghiamo se ci poniamo tante domande se leggiamo ecco nascono tanti pensieri la nostra mente è me sta meglio si sente meglio e più felice quindi in questa straordinaria palestra platone allena i giovani nella mente nel corpo per fare filosofia ma che cos'è la filosofia per platone per platone lo dice molto chiaro è un tentativo di migliorare se stessi prendendosi cura di se stessi che cosa vuol dire prendersi cura di noi stessi noi pensiamo quando ci prendiamo cura del nostro aspetto ci guardiamo allo specchio ci guardiamo se siamo ben pettinati ci prendiamo cura del nostro aspetto se ci vestiamo bene però questa è solo la parte esteriore di noi stessi è giusto prendersi cura della nostra parte esteriore anche socrate e platone si prendevano cura della loro parte esteriore ad esempio socrate faceva attenzione a quali tipo di sandali indossava però c'è un'altra parte di cui noi ci dobbiamo prendere cura platone ce lo dice la parte interiore la parte della nostra anima la parte della nostra mente dei nostri pensieri o pensiamo che i nostri pensieri la nostra mente siano meno importante dei nostri capelli o dei nostri vestiti sono altrettanto importanti dovremmo dire forse sono anche più importanti perché i nostri vestiti in fondo possiamo cambiare la nostra mente quella noi dobbiamo coltivarla bene quindi platone ci dice fate questo sforzo miglioratevi rendete più bella la vostra mente rendete più bella la vostra anima e questo potete farlo se naturalmente la allenate quotidianamente platone ci racconta una storia una sorta di favola anzi una vera e propria favola greci lo chiamavano mito ma noi possiamo tradurlo in una favola ci dice noi che viviamo nel mondo siamo un po come persone che sono chiuse in una caverna è stato una grande caverna un buco che va in fondo alla terra e ci sono tante persone sedute in fondo alla caverna sulla parete della caverna ci sono delle ombre proiettate come fossero l'immagine su uno schermo su uno schermo cinematografico o sullo schermo di un vostro computer dice platone le persone se ne stanno lì davanti a questo schermo tutto il giorno a guardare il filosofo cosa fa chiede a queste persone di alzarsi in piedi di girarsi e di guardare le cose al di là dello schermo di guardare cosa c'è fuori dalla caverna ecco noi che molto spesso siamo abituati a stare tutto il giorno davanti a uno schermo davanti allo schermo di un cellulare di un computer della televisione ecco platone sembra dirci anche se ai suoi tempi non c'era la televisione non c'era il computer ma platone pensava già a tante cose che sembrano attualissimi cercate di guardare in modo diverso le cose togliete lo sguardo dallo schermo guardate fuori al mondo o meglio andate a scavare nelle cose trovate cosa c'è dietro ponetevi tante domande ecco per platone quello è un modo per esercitare la filosofia la filosofia è uscire dalla caverna distogliere gli occhi dalle immagini che sono proiettate sullo sfondo per vedere che cosa c'è fuori perché perché il filosofo ama scoprire le cose che gli altri nemmeno guardano nemmeno vedono ma tutti possono diventare filosofi per il filosofo non serve sapere già qualcosa questo l'aveva insegnato il suo maestro socrate serve la voglia di alzarsi in piedi girarsi e andare a vedere che cosa c'è là fuori in questo senso il filosofo è davvero qualcuno che è molto curioso e che non si ferma di fronte a una verità che gli viene data a qualcuno che gli dica le cose stanno così filosofo vuole andare a vedere perché perché è un innamorato del sapere platone ci racconta un'altra storia molto bella ci dice se il filosofo è qualcuno che ama il sapere il filosofo ci ricorda una storia che è quella del dio dell'amore che si chiama eros e che cosa dice questa storia di questo dio dell'amore che si chiama eros che eros era figlio di ricchezza e povertà è un'altra favola che ci racconta platone ma se era figlio di ricchezza e povertà eros significa che non era né totalmente ricco né totalmente povero che non era né totalmente sapiente né totalmente ignorante eros era una via di mezzo era né povero né ricco né sapiente né ignorante ma proprio per questo desiderava sapere desiderava la ricchezza ma non la ricchezza nel senso dei soldi la ricchezza nel senso di ciò che ci arricchisce tutte quelle cose che possono arricchirci quindi eros amore era già un filosofo eros ci dice platone è filosofo e tutti i filosofi che cosa sono sono coloro che sono innamorati della verità sono innamorati del sapere in questo modo ci dice platone noi riusciamo a fare una cosa straordinaria noi riusciamo in qualche modo a elevarci elevarci vuol dire staccarci da terra come quando si salta che si si ci si protende verso l'alto platone ci dice questo questa cosa perché dice come se noi mettessimo le ali per andare a vedere più in alto questa idea di elevarsi di mettere le ali di andare più in alto è una cosa molto bella pensate un po se qualcuno di voi ha mai pensato di che bello quanto sia bello volare perché è bello volare perché uno potrebbe desiderare in un certo momento di essere un gabbiano che vola in alto ma perché vediamo le cose così come non abbiamo mai viste se stiamo sempre con i piedi per terra ancorati lì vediamo le cose solo da un punto di vista ma se siete in alto come un gabbiano che vola come un'aquila come un falco voi vedete le cose in maniera radicalmente diversa molto con una visione molto più ampia ecco platone in qualche modo che ha pensato che la nostra anima il nostro pensiero potesse avere mettersi le ali per elevarci è qualcuno che ci ha spronato a guardare in modo diverso le cose in fondo la filosofia è questa cosa qui con socrate era interrogarsi sulle cose porsi delle domande prendersi cura di se stessi con platone è allenarsi a uscire dalla caverna a guardare fuori allenarsi a elevarsi allenarsi a mettere le ali alla nostra anima per trasformarci in una sorta di uccello platone non lo chiama così dice che noi siamo come un una persona che guida un carro con due cavalli alati e con questo carro ci eleviamo ci innalziamo per vedere così le cose che sono anche al di là di quello che viviamo ecco questa è la storia che ci ha raccontato platone una storia ancora molto attuale che noi possiamo ascoltare come una straordinaria favola la favola della filosofia ma questa favola come tutte le favole ci insegna proprio qualcosa su di noi quotidianamente sul nostro modo di fare di comportarci e di vivere alleniamoci alleniamoci nel corpo e nell'anima e leviamoci pugniamoci tante domande in questo modo sia che noi abbiamo sei anni che ne abbiamo 80 saremo filosofi come platone grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti